Salve a tutti, in Italia l'argomento formazione e coaching è ancora considerato un tabù. Ognuno crede di essere il migliore agente immobiliare del pianeta, rimane chiuso nelle proprie idee e le proprie convinzioni, senza prendere nemmeno in considerazione l'idea di vedere le cose da altri punti di vista. Nella nostra agenzia si segue un programma di formazione continuo e programmato, sia in Italia che all'estero, per poter offrire ai nostri clienti le più moderne strategie in ambito immobiliare e la più ampia gamma di servizi per soddisfare i bisogni nel miglior e nel minor tempo possibile. Il mondo immobiliare è in continuo mutamento, sia per quanto riguarda l'ambito legislativo, sia per quanto riguarda la variazione dei prezzi, e per restare al passo coi tempi e per poter offrire sempre nuove opportunità, anche le idee innovative che provengono da paesi esteri, verificando poi se si possono applicare allo stesso modo nel nostro mercato. Siamo un'agenzia immobiliare che si approccia in maniera diversa al cliente, il quale offre interessanti opportunità di crescita, potendo partecipare gratuitamente a dei corsi di formazione per capire come si dovrebbe lavorare nel nostro settore al giorno d'oggi e quanto è costante il nostro impegno per poter offrire il miglior servizio possibile alla clientela.